Buongiorno a tutti Buongiorno amiche e benvenute sul mio canale Allora oggi riprendo la pausa estiva e la pausa un po' malaticcia Sono stata poco bene, qualche giorno di febbre ma non vi preoccupate non era covid E riprendo i tutorial con i nuovi kit che ho presentato sulla mia pagina Che vi ricordo potete andare a guardare anche se non avete facebook Basterà andare su google, ve l'ho detto in tanti tutorial, lo ripeto per chi non ha seguito Andate su google, barra di ricerca, digitate le creazioni di Mamu Facebook Vi appare un link, cliccate sopra e vi troverete nella mia pagina Potrete vedere video, foto, post, tutto quello che volete Non potrete commentare o mettere like ma potete vedere tutto E di solito faccio dirette, comunque post che metto con varie cose E diciamo lì trovate il di più Questo youtube è dedicato prevalentemente ai tutorial Allora sul sito di fili e forme Tra l'altro non so se ci sono ancora o sono terminati Ci sono dei kit E questa cosa sarà a partire da questo mese fino al mese di dicembre Troverete dei kit con delle varianti Cioè nel mese di settembre c'è il kit ultimi giorni al mare C'è il kit tramonti rosa Ultimi giorni al mare si compone di questi sei filati Questi tre sono fissi anche per l'altro kit Che sono il Darin 2 mm Il Bliss e il Dragone E poi c'è il Samantha, il Blissino e il Sorrento Che ritroviamo in altri colori anche però nel rosa Con questo kit ci sono sempre fissi questi cristalli Che troverete anche nell'altro Più questi altri cristalli per il kit ultimi giorni al mare Mentre per il kit tramonti rosa Trovate questi cristalli che vi ho fatto vedere prima Più questo formato di cristalli e perle Al posto del cristalli da set abbiamo messo delle perline I colori sono stati scelti personalmente da me Mentre i cristalli li ho scelti insieme ad Alice di Fili e Forme Abbiamo fatto un lavoro di squadra Inoltre in ogni kit troverete A prescindere da quello che acquisterete 5 basi in plastica da 2,5 Quelli gli anelli un po' cicciosi duri Poi una base 38x15 Due monachelle Color oro Due bottoncini Sto facendo casino lo so Due bottoncini In madre perla E una base Una chiusura Barra T Da 18 mm Che deve essermi caduta E ora non perdo tempo a ritrovarla Ma da qualche parte ce l'ho Mi deve essere caduta nella busta Vabbè lasciamola così tanto sapete qual è La trovate comunque sul sito Allora questi kit vengono 50 euro l'uno E sono scontati del 10% se non ricordo male Quindi comunque trovate un kit ad un valore Superiore rispetto al prezzo a cui lo acquisterete Per un kit intendo Un kit ho ovviamente Un kit Di questi kit ne troverete 25 pezzi E 25 pezzi Quindi a numero limitato Ripeto non so se sono ancora disponibili sul sito di fili e forme Apro piccola parentesi Ovviamente io adesso sto registrando che fine di agosto 2021 Se questo video lo guarderete tra sei mesi e un anno Ovviamente la cosa non c'è più Non esiste più Quindi non vorrei che a distanza di tempo Mi venga detto Sto cercando il kit e non lo trovo Non lo troverete Quindi noi ogni mese Io più che noi andrò a fare ogni mese un tutorial utilizzando questi materiali Alternerò i colori Vi darò ovviamente Le alternative Per farle con un filato piuttosto che un altro E quindi utilizzeremo questi materiali Sarò un po' Diciamo Larga di Di vedute Nel senso che Magari inseriremo una rosellina che non c'è nel kit Magari Useremo Non so Dei chiodini che non sono nel kit Sono cose che comunque Avete tutte a disposizione Va bene? Allora partiamo E facciamo questo nuovo tutorial Allora per questo video io utilizzerò solo il sorrento ed il dragone Gli altri li mettiamo da parte perché li utilizzeremo per i prossimi video Quindi li li sposto Inoltre utilizzerò una base tonda da 25 e da 2 centimetri e mezzo Che quindi avete all'interno del kit e questi cristalli Questi due fanno parte del kit Degli ultimi giorni al mare Questo fa parte di entrambi i kit Quindi lo troverete comunque e dei colori fissi Se utilizzate l'altro kit tramonti rosa Potrete andare ad utilizzare il sorrento 99081 ovviamente e il dragone E potrete utilizzare i due cristallini piccoli o un singhiozzo Ed eventualmente potete utilizzare sempre anche questo colore perché tra l'altro io lo trovo bellissimo Oppure l'oro Fate voi Non ci sono problemi O anche al posto dei cristalli da 6 Direttamente le perline Andremo a realizzare un modulo che potete utilizzare sia come pendente che come orecchino Ovviamente se lo utilizzate come orecchino vi occorrerà il doppio del materiale perché gli orecchini sono due A meno che non fate gli orecchini uno diverso dall'altro Cominciamo Allora prendiamo il nostro sorrento Andiamo come sempre a tagliare un pochino la punta Sul sito di fili e forme c'è la disponibilità se volete di degli aghi in fila perle Che ovviamente non vanno bene sempre perché se utilizzate un cristallo piccolo ed un filato che è un po' più grande Ovviamente non potete Magari non entra nel filo Quindi la soluzione secondo me migliore è sempre quella del latta a pennellino Così togliamo ogni problema Intanto vi preparate sul piano di lavoro I cristalli da 4 mm Inseriremo prima i cristalli di questo colore Ok voi scegliete tra il Se fate quelli rosa quali dei due è lo stesso Ce ne serviranno Aspettate che me l'ho scritto 24 Quindi 1, 2, 3, 4 Mettetevi insomma la quantità che vi ho appena detto Poi con un po' di scotch Io utilizzo del normale nastro carta Vi andate a chiudere il filo In modo tale che questo filo poi magari lo riutilizzeremo per altri progetti O magari non lo utilizzerò più A seconda di ciò che ho in mente Allora nel frattempo si è asciugato il filo Faccio la punta con la forbice E vado ad infilare i 24 cristalli Dopodiché prendiamo l'altro filo E andiamo ad inserire 35 cristalli Che potete inserire anche in quest'altro modo Che vi faccio ora vedere Che ovviamente chi mi segue già conosce Andare direttamente Scusate ogni tanto viene sul fil Vengo sui fili del feltro E vado a fare in questo modo Ne inserisco alcuni contemporaneamente Fino ad inserirne 35 Anche in questo caso ovviamente mettiamo lo scotch Ha una piccola parentesi che non ricordo se ho detto prima Se vedete le scritte che coprono il video Non è colpa mia Ma sono le scritte e i sottotitoli che mette YouTube Che dovete andare voi a togliere manualmente Perché io non posso farci nulla È proprio una cosa di YouTube Da quest'anno le ha messe Da qualche mese le ha messe in automatico E dovete andarli a disattivare Allora veniamo a noi Lasciamo una codina Dopodiché prendiamo 5 cristalli Gli ultimi 5 E li chiudiamo a cerchio Con un paio di nodini Non stringete in maniera esagerata Però insomma vanno chiusi bene Ah tra l'altro gli uncinetti da utilizzare Oddio vedo un cristallo fuori Non vorrei aver contato male Un attimo solo Ecco infatti avevo visto fuori un cristallino Mi deve essere sfuggito prima Quando ho chiuso E quindi vabbè avrei fatto un giro di meno di un'altra cosa Ma meglio evitare Allora come vi dicevo Chiudete a cerchio lasciando un po' di centimetri di filo 10-15 Un paio di nodi Poi gli uncinetti da utilizzare saranno L'1,25 se volete Io lavoro con l'1,50 Il sorrento e poi comunque anche il dragone E lo 0,90 Eventualmente l'1,75 che va bene per il dragone Insomma poi vedremo man mano andando avanti Allora parto con l'1,50 Mi inserisco sotto dove c'è il nodo Prendo il filo Faccio una catenella E ne faccio altre due Una maglia bassa tra un cristallo e l'altro Due catenelle Maglia bassa tra un cristallo e l'altro Due catenelle Ripetiamo fino a chiudere tutti i cristalli Uno, due Qui chiudo Tra l'altro prima nelle prove ho fatto una cosa che mi è venuta per sbaglio Però mi è piaciuta Nel senso che prendo il filo Porto su Prima di chiudere con la catenella Scusate con Di chiudere la maglia bassa Mi inserisco in una maglia Prendo il filo e chiudo con la maglia bassissima Che pure se può fare Diciamo che Che viene bene Dopodiché Faccio una catenella E mi vado a lavorare nelle maglie che ho appena fatto Però in costa dietro Quindi prendendo solo La parte retro Aspettate che provo un po' Ok Ad avvicinare l'immagine Mi vado a fare una volta una maglia bassa Nella maglia successiva mi andrò a fare due maglie basse E quindi vado avanti Due, uno, due, uno, due Ok Uno Due E continuate fino alla fine del giro Vado a chiudere il giro con una maglia bassissima Sulla prima maglia che ho fatto E mi vado a fare tre catenelle Prendo la base La metto dietro Mi inserisco sotto alla maglia che ho appena fatto Prendo il filo E chiudo E chiudo Ok Adesso mi vado a fare la stessa cosa Solo all'inizio facciamo così Poi faremo nel modo che vi mostro Perché mi serve che mi prenda Bene la maglia appunto Allora adesso ci andiamo a fare Due maglie basse Passando però sotto Solo sotto alla base Quindi non prendiamo la maglia di questo modulino Quindi solo sotto E facciamo Uno E Due Adesso invece ci andiamo ad inserire Nella prima maglia libera Inseriamo l'uncinetto Ci avviciniamo tre cristalli Che li lasciamo sul retro Perché poi il retro diventerà il davanti Prendiamo il filo Lo portiamo verso di noi E chiudiamo la maglia Poi di nuovo Due maglie basse Ecco aspettate che Dovete fare attenzione a questa cosa Che tra l'altro ho fatto io Ossia Quando prendete il filo Poi dietro Al terzo dei cristalli Quando riportate sul filo Dovete fare attenzione Affinché questo filo Quello che sta sul dito A volte tende ad accavallarsi Tra il primo ed il secondo cristallo Invece tenetelo sulla sinistra In modo tale che non si accavalli Poi due maglie basse Solo Con la base di plastica Uno e due E poi di nuovo Ora scegliete voi Se prima avvicinarvi i cristalli E poi inserire l'uncinetto Che è uguale Andate nella maglia successiva Prendete il filo Dopo il terzo cristallo Vi ho fatto fare una capriola Passate attraverso la maglia Vi spostate il filo Per ovviare a quella cosa che ho detto Voi comunque controllate E chiudete Poi di nuovo Due maglie basse Solo sulla base E di nuovo Avvicinate tre cristalli Vi inserite Sulla prima maglia libera Prendete Dopo l'ultimo cristallo Spostate un po' con le mani I cristalli a sinistra E chiudete la maglia bassa E andate avanti così Fino ad inserire tutti i cristalli Dell'ultimo colore Che abbiamo inserito Allora vado ad inserire Gli ultimi tre cristalli E tra l'altro Se vi capita Di saltare una maglia Non succede nulla Quindi non vi preoccupate Più di tanto Questa tra l'altro È una lavorazione Che vi avevo fatto vedere Forse un anno Un anno e mezzo fa Non ricordo E in occasione Del tubolare candy Quando avevo fatto La collana tra l'altro Non so se ce l'ho qui O l'ho data direttamente A filo e forme Quando avevo fatto appunto Il tubolare candy Che poi si agganciava Direttamente alla base E poi riscendeva Quindi dava questo Questo tipo di effetto E poi riscendeva E avevo provato A farvelo vedere In una diretta Ma era un giorno Dei miei no E praticamente Non ero riuscita A fare il lavoro Decentemente Allora Dopo che ho fatto Ho inserito Gli ultimi tre cristalli Continuo A fare la stessa cosa Ma senza i cristalli Quindi Due maglie Solo sulla base di plastica E due maglie E una maglia Prendendo la maglia Bassa Che abbiamo fatto Nel Nel modulino iniziale E poi ci andiamo A ricongiungere Chiudendo con una maglia Bassissima Alla parte iniziale Quindi Quando arrivate Dall'altra parte Chiudete Sulla prima maglia Che avete fatto Con una maglia Bassissima Il modulino È molto carino Ma non è Ancora terminato Infatti Noi adesso Andremo a fare Un'altra cosa Ovviamente Potete anche decidere Di farlo tutto intorno A me piaceva Dare un altro tipo Di effetto Allora Adesso che facciamo Ci andiamo a lavorare Una maglia bassa In ogni maglia Che va Da qui A qui Cioè Dalla fine All'inizio Dei tre cristallini Bassa O bassissima Osa Se volete saltare Ogni tanto Non è un problema Potete Se vi va meglio Prendere in costa Dietro Se no Prendete tutte e due Le maglie Non ha importanza Quindi vado avanti Continuo Dal retro Del lavoro A fare queste Maglie basse Entrando Io sto prendendo Appunto In costa dietro Le maglie Che si sono formate Inserendo I cristallini E facendo Quelle due Maglie basse Solo sulla base Di plastica Scusate Se io parlo molto Chi mi conosce Lo sa Ma cerco di spiegare Sempre al meglio Tutto quello che faccio Quindi il motivo Del perché Ho fatto quella data Cosa Cosa succede Se si fa Cosa succede Se non si fa Sono tutte cose Che o si memorizzano Possono essere utili O magari Si prendono anche Appunti Allora Quindi Facciamo Questa parte Del retro Con Maglie basse O bassissime Come vi è più comodo In corrispondenza Dei cristalli Di queste serie Di tre cristalli Allora Quando sono arrivata Come vedete In corrispondenza Della fila Di cristallini Posso fare Un paio Di catenelle E voltare Il lavoro E cosa faccio Ovviamente Intanto qualcuno Iniziato a fare I lavori Ma che lo dico a fare Mi vado ad inserire Tra il primo Il cristallo Più esterno E quello centrale Con l'uncinetto Tipo come quando Facciamo il ciccioso E chiudo Con una maglia Bassissima Allento il cappio Mi avvicino I cristalli Da sei millimetri Me ne metto Un pochino Sul piano di lavoro Con l'uncinetto Da sei Scusate Con l'uncinetto Da zero Novanta Mi inserisco Il cristallo Da sei Al rosario Ecco qui Lo faccio scorrere Riprendo L'uncinetto Da un e cinquanta Lo chiudo Con una catenella E mi vado A inserire Sempre Tra il cristallo Più esterno E quello centrale Del gruppetto Successivo E chiudo Con Una maglia Bassissima Allora Vado avanti Anche se Il tizio Che sta di fronte Parla A sguaiato Come se Abitasse Solo lui Qui Ma va bene Allora Vado avanti Vado ad inserire Una Devo alzare La voce Altrimenti Sentite lui Vado ad inserire Un altro cristallo Da sei millimetri Nello stesso modo Lo chiudo Con una catenella E vado Nel gruppetto Successivo Con l'uncinetto Sempre Fra il cristallo Esterno E quello centrale E faccio Una maglia Bassissima E vado Avanti In questo modo Quindi Un altro Inserisco Uncinetto Chiudo Maglia Bassissima Cioè faccio La catenella Pardon Mi sto Ennervosendo E quindi Comincio A sfarfallare Mi inserisco Di nuovo Tra un cristallino E l'altro Prendo E chiudo Con la maglia Bassissima E vado avanti Fino a che Non avrò inserito Tutti i cristalli Tra un gruppetto E l'altro Allora Adesso vi faccio Fare una risata Perché Mentre stavo Lavorando Praticamente Mi sono sentita Ho sentito Dei passi Dietro di me Mi sono girata E c'era il mio fidanzato Cioè mi sono spaventata A morte Perché Non mi ero accorta Che si era fatta Ora di pranzo E lui era tornato Dal lavoro E io Non avevo preparato Nulla Cioè in realtà Sì Avevo scongelato Il sugo Con le seppie Ma dovete sapere Chi mi segue Su facebook L'avrà letto Sono 24 ore Che nel mio paese Non c'è acqua In alcune zone E sta succedendo Praticamente Un macello Io ho piatti Nel lavandino Da ieri Quindi ok Non si può fare Lavatrice Non ti puoi lavare Fare doccia Hanno messo Un filo d'acqua Ieri per 15 minuti Ti ho fatto in tempo A riempire Un secchio E quattro bottiglie Quindi oggi Mi tocca andare Da mia mamma Alla farmi Decentemente Perché Veramente Assurdo E io avevo Il telefono Poi senza connessione Perché stavo Stavo registrando Ma mi sono presa Un accidente Adesso Non potendo Mettere acqua Perché comunque Insomma A macello Siamo andati a prendere Qualcosa Di pronto Perché Veramente Ragazzi È un disagio Assurdo Ma io non immagino Le persone Che hanno Cioè le famiglie Con Quattro persone In su Con i bambini Con le persone Anziane Con chi ha delle Problematiche È assurdo Sono anni Che fanno Questa cosa La sera Un giorno sì E un giorno no Tolgono l'acqua Dalle 22 Alle 6 Del mattino E Da agosto Fino anche A novembre Ieri Rottura Maxima E Non Non solo Delle tubature E praticamente Siamo senza acqua Assurdo Vabbè Veniamo a noi Allora Vado a chiudere L'ultimo Mentre aspetto Che lui rientri Ho ricominciato A registrare Quindi vado A Ovviamente Ad inserire L'ultimo Cristallo Da 6 Quindi Passo Poi sotto Ai cristallini Piccoli E mi Chiudo Il L'ultimo Faccio L'ultima Maglia Bassissima Come vedete La lavorazione Comunque Già così È molto carina Voi poi Con le manine Belle Tirate Un pochino In giù I cristallini Che rimarranno Per bene E viene Questo Questo Tipo Di lavoro Ovviamente Potete Sia Fermarvi Qui Oppure Io Faccio Un'altra Cosa Solo Che Penso Che Mi Andrò Comunque A fare Una Maglia Bassissima Sul Retro Mi Metto In un Punto Qualsiasi Per Rinforzare Per Dare Presa Sennò Questo Cristallo È Allora Poi Torno Indietro Mi Muovo Con le Maglie Bassissime Quando sono Vicino Al cristallo Da sei Vado A fare Uno Due Tre Facciamo Al primo Quattro Una Maglia Maglia Bassa Tra i Due Cristalli Mi Avvicino Tre Cristallini Li Chiudo Con Una Maglia Bassissima E Vado A fare Una Maglia Bassa Sempre Nello Stesso Spazio Bassa O Bassissima Come Volete Voi Poi Uno Due Tre Vado Al Centro Chiudo Con Una Maglia Bassa E Di Nuovo Tre Cristallini Li Avvicino Chiudo Con Una Maglia Bassissima Al Centro Chiudo Con Una Maglia Bassa E Continuo Uno Due E Tre Maglia Bassa Tre Cristallini E Praticamente Vado Avanti Adesso Vado A Mangiare Perché Rientrato Il Mio Finanzato E Praticamente L'effetto Che Viene Poi E Questo Qui Allora Sono Tornata Dopo Una Serie Di Vicissitudini Che Non Vi Sono A Dire Vado A Chiudere L'ultimo Gruppo Di Cristalli Mi Faccio Le Tre Catanelle Me Le Chiudo Dopo L'ultimo Cristallo Vado In Fido Da Qualche Parte Con La Famosa Tecnica Do Koyo Koyo E Chiudo Poi Se Mi Faccio Un'altra Catanella E Mi Chiudo Sotto Perché Tanto Adesso Devo Andare Proprio A Chiudere Quindi Mi Faccio Una Maglia Bassissima E Sto A Posto Tra L'altro Mi Sono Accorta Che Ho Sbagliato A Fare Una Cosa Nel Senso Che Nel Primo Gruppetto Di Maglia Bassa Non Ho Preso Il Filo Tra Il Primo E Il Secondo Cristallo Quello Esterno E Quello Di Mezzo E L'ho Fatto Direttamente Da Seconda Non So Perché Avevo Dovuto Fare Prima Qui Invece Ho Inserito Direttamente Il Cristallo Da Da Sei Non Cambiava Niente Era Solo Proprio Da Sul Lavoro Allora A Questo Punto Mi Vado A Tagliare Il Filo Mi Faccio Il Classico Nodino E Poi Mi Vado A Nascondere Il Filo Ok Aiuto Sempre Magari Con Un Uncinetto Anche Più Piccolo Per Nascondere Meglio Il Filo Me Lo Porto Proprio Nelle Maglie Di Dietro Così Che Non Si Veda Se Riesco Ad Entrare Ecco Qua Ok Per Bloccare Questa È La Solita Tiritera Tanto C'è Anche Il Tutorial Su Come Chiudere I Lavori Sappiamo Che Dobbiamo Andare A Fare Dei Nodi Di Sicurezza Poi Andiamo Ad Aggiungere La Famosa Puntina Di Colla Invece Con Il Filo Che Mi È Avanzato Io Mi Vado Ad Inserire Nella Parte Interna E Che Non È Obbligatorio Del Colore Diverso Rispetto A Quello Che Ho Usato Per Fare La Parte Interna Che Ripeto Possiamo Anche Non Fare Vien Fuori Il Fiorellino Che Diciamo I Fiorellini Siamo Un po Sature Di Fiorellini È Stata Tutta L'estate A Fiorellini Con Ok No Quasi Quasi Me Lo Rimetto Proprio Al Centro Perché Tanto Non Passa Il Ok Lo Metto Così Va Bene E Al Solito Me Lo Vado A Fermare Anche Qui Ci Andiamo A Tagliare L'eccesso E Poi Puntina Di Asulit Vi Ricordo Per Iniziare Attacca Pennellino Per Chiudere Asulit Ok Adesso Andiamo A Prendere Il Dragone Prendiamo Il Nostro Dragone Possiamo Utilizzare Sia L'1 50 Che L'1 75 Come Desiderate Andiamo A Fare Un Cappietto Cappiettino Dopo Dopo aver Fatto Il Cappietto Ce Andiamo Un Po Più Dietro Così Non Si Vede L'inizio Del Lavoro Ci Agganciamo Al Cappietto Ancora Più Dietro Ecco Qui Prendiamo Il Cappietto E Chiudiamo E Fantastico Come Io Inizi A Registrare E Gli altri A fare Casino Mi Arrendo Allora Adesso Andiamo A fare Una Maglia Bassissima In ogni Maglia Bassa Del Giro Precedente In questa Parte Che Non Ha Cristalli Prendete Come Vi Pare In Costa Dietro Prendete Tutta La Maglia Non Ha Nessuna Importanza Può Essere Che Farete Un Po Più Di Difficoltà Perché Le Maglie Lì Sono Abbastanza Strettine E Ovviamente Il Dragone E Più Sottile Rispetto E Scusate Più Spesso Rispetto Al Sorrento Però Non Fa Nulla Se Vedete Che Ad Occhio Il Lavoro Non È Bello Non È Ordinato Allora Potete Fare Potete Eventualmente Saltare Una Maglia Ogni Tanto Io Le Sto Facendo Però Una Di Seguito All' Altra E Mi Sembra Fattibile L'importante Quando Fate I Lavori Che Date Comunque Una Omogeneità Quindi Anche se io Per esempio Qui Dovessi Saltare Una Maglia L'importante È Che Però Il Risultato Della Catenella Che Viene Su Sia Uguale A Quello Precedente E Ovviamente Il Successivo Poi Se Ho Saltato Una Maglia Se Non L'ho Saltata Ha Poca Importanza Questo Almeno Il Mio Pensiero Personale Allora Vado A Chiudere Un po' Oltre In Maglia Bassissima A Questo Punto Mi Faccio Una Catenella E Torno Indietro E Mi Vado A Fare Posso Fare Anche Un Altro Giro Di Maglie Bassissime In Costa Dietro Quindi Prendo Sempre L'ultima Maglia Quella Diciamo Più Lontano Da Me In Ogni Maglia Del In realtà La Decorazione Potete Veramente Farla Come Desiderate Questa È Semplice Solo Un Minimo Di Attenzione Io Oggi Sono Particolarmente Nervosa E Agitata Quindi Non è L'ideale Andare A fare Anche I Lavori Che Sono Un Po Più Allora Confesso Che Volevo Rifinire Con Un Altro Giro Di Ritorno Con Come Facciamo Spesso Una Maglia Bassissima E Catenella Maglia Bassissima E Catenella Ma Devo Dire Che Questo Questa Lavorazione Così Come Sta Venendo Mi Piace Molto Ben Molto Ben Rifinita Quindi Io Farei Una Cosa Mi Vado A Chiudere Con Una Maglia Bassissima Andando Oltre Le Maglie Del Che Ho Fatto Col Dragone Vado Direttamente Quelle Lavorate Con Il Sorrento Mi Sposto All'interno Ok E Vado A Chiudere A Tagliare Il Filo E Chiudere Quindi Questa Parte Poi Mi Vado A Nascondere I Fili Anzi Vabbè Di Taglio Poi Ci Metto La Colla Perché Se no Questo Tutorial Non Lo Finisco Mai Voi Nascondete I Fili Ok Diciamo Che Teoricamente Potrebbe Anche Terminare Così Perché Comunque Io Trovo Un Bel Lavoro Quindi Che Sia Un Orecchino Quindi Andate Ad Attaccare Una Monachella Aspettate Che La Prendo Attaccate La Monachella Ed Ecco Qui L'orecchino Molto Molto Carino Oppure Se ne Volete Fare Un Ciondolo Facciamo Come Abbiamo Fatto Altre Volte Magari Chiudiamo A cerchio Facciamo Il cerchio Magico E Facciamo All'interno Del cerchio Magico Dieci Maglie Basse Facciamo Dieci Proviamo E Uno Due Tre Ovviamente Ci lasciamo La codina Quattro Cinque Sei Sette Otto Vediamo Se bastano Otto Mi vado A tirare Facciamo Nove Dieci Undici Undici E Dodici Quindi Dodici Maglie Basse All'interno Del cerchio Magico Potete Farne Sempre Otto Dieci Tirate E poi Fate Le altre Le altre Oggi Ne è giornata Poi Mi chiudo Ovviamente Entrando Nella prima Maglia Facendo Una maglia Bassissima E come abbiamo Fatto Un miliardo Di volte Vabbè Catanella E possiamo Fare Un Giro Direttamente Facciamo Di maglie Bassissime In costa Dietro Cercando Di essere Lente Un po' Più Lente Con Con La maglia Quindi Quando Dobbiamo Prendere Il cappietto Lo tiriamo Un po' Di più In modo Tale Che non Si Accappucci Proprio Subito Subito Perché Sappiamo Che Quando Dobbiamo Fare i cerchi Per non Farli Accappucciare Dobbiamo Fare Al primo Giro Il doppio Delle maglie Precedenti Invece Qui Andiamo A fare Lo stesso Numero Di maglie Quindi Dobbiamo Essere Un po' Più Elastiche Da questo Punto Di vista Di vista E Non Ci Vedo Più E Quindi Allentare Un pochino Il cappietto Una volta Che abbiamo Concluso Il primo Giro Andiamo A fare Un altro Giro Quindi Facciamo Una Catenella Una Maglia Bassissima Una Catenella Una Maglia Bassissima Una Catenella E così Via Che Da quando Abbiamo Fatto Questo Tipo Di Lavorazione Devo Dire Che è Piaciuta Tante E Ho Visto Che La Riproponete Anche In Tanti Vostri Lavori E Mi Fa Piacere Catenella Maglia Bassissima Catenella In Costa Dietro Maglia Bassissima Sempre Catenella Maglia Bassissima Catenella Maglia Bassissima Sfuggita Catenella Maglia Bassissima Catenella Maglia Bassissima E Facciamo Un'altra Maglia Bassissima Sulla Prima Maglia Che Andiamo A Chiudere Ok Tagliate Un po' Più Lontano Perché Ci servirà Il filo Rimpiccioliamo Rimpiccioliamo Un po' Il cappietto Ci mettiamo Sul retro Prendiamo il cappietto Lo portiamo Sul retro E chiudiamo La maglia Maglia Adesso Io qui al centro Mi andrei a mettere Il cristallino Il cristallino Allora Ho ancora pochi minuti Per registrare Perché poi vedo che Avanza la luce E comincia a essere fastidiosa Dopo che abbiamo fatto Questo modulino Ci mettiamo Alla metà Di quest'altro modulo Io faccio sempre Al contrario Mi vado Appunto Indicativamente A cercare la metà Mi prendo Il filo Dell'altro modulino Che deve stare Al contrario Mi servirebbe Una terza mano E me lo faccio Passare Qui Volendo Volendoci Riuscire Proprio Ok Dopodiché Senza tirare Eccessivamente Inserisco Anche da questa parte Lo faccio Ripassare Vabbè Queste non è che sono Lezioni che vi devo dare È come se stesse Facendo Un Un punto Di cucito Insomma È una cosa Se lo so fare Io Lo sapete fare Anche voi Che notoriamente Con anche il filo Sono La più asina Del mondo Quindi Facciamo passare Più volte Allora Dopo che abbiamo Fatto passare Il filo Qualche volta Considerate Anche che Volendo Potremmo Inserire Anche un Cristaldino Piccolo Mi pareva Ricordare Di averne Uno sciolto Aspettate Che ce ne ho Uno Comunque Dello stesso Colore Nella mia Scatolina Degli Avanzi Quando andiamo A prendere Il filo Che sia Da un verso Che dall'altro Quando il filo È sul davanti Prima di chiuderlo Ripassarlo sotto Dietro Ripassarlo Dietro Andiamo A inserire Il cristallo E poi Prendiamo Il filo Ecco Qui In questo Modo Andiamo Ad aggiungere Un cristallino Ovviamente Adesso Andiamo A chiudere Il filo Con una serie Di nodini E Il nostro Il nostro Modulino Sarà pronto Allora Dopo aver messo Puntini di colla Quella Compresa Le mie mani Ho chiuso Per qui Vado a tagliare Gli eccessi E a parte Quest'errore Iniziale Che mi brucia Non poco Direi Che il nostro Modulino È pronto Non so se Questa è la luce Migliore Poi vedrò In post produzione Di Sistemare Il tutto Comunque È un bel Modulino Ricco E Secondo me Non è eccessivamente Grande Quindi Adatto anche Ad un orecchino O essere Un Un bel Ciondolo Mi piace Tantissimo Perché Comunque Nonostante Abbastanza Ricco È Comunque Delicato Tra l'altro La chiusura Nel retro Da questa Parte L'ho fatta Con L'uncinetto Da 0,90 Perché Con Devo dire Che con Il dragone Si prende Benissimo Quindi Non ho Fatto Assolutamente Nessun tipo Di Difficoltà Quindi Questo è il primo Progetto Presentato Con il kit Di Di questo mese Del mese di Settembre Potete farlo Ripeto Nelle due Colorazioni O sul rosa O sull'azzurro A seconda del kit Che avete Che avete Acquistato Ovviamente Se non avete Acquistato il kit Potete farlo Con il materiale A vostra disposizione Tanto è tutto Elencato All'inizio Comunque Trovate Vi ricordo Le info Nella infobox Qui sotto Al video C'è un triangolo Una specie Di puntina Un triangolo Senza la base Dove c'è scritto Dove Cliccate sopra Si apre Una parte Dove ci sono Tutti i link Che riportano Al materiale Che viene Utilizzato In ogni tutorial Tranne nei primissimi Tutorial Di qualche anno fa C'è in tutti Tutti i materiali Che utilizzo Sono sul sito Di filo e forme www.filioeforme.eu Ed è Scritto Qui sopra Va bene Io vi ringrazio Vi abbraccio E ci vediamo A prestissimo Ciao 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 Grazie a tutti.